Ragazzi oggi vediamo come costruire un meccanismo di razzi magici all'infinito Che verranno sparati continuamente e avranno una funzionalità molto molto particolare Prima di iniziare ragazzi vi invito a lasciare un bel pollicione in su per il supporto Mi raccomando cliccate quel bottoncino, lasciare un commentino su quello che ne pensate E vi auguro una buona visione Bello della sole e bentornato in questo nuovissimo video Sono Cristian187 e siamo oggi ragazzi con un nuovissimo video Sono rimasto assente un paio di giorni ma voi non ve ne siete accorti perché appunto vi avevo programmato i video Comunque vi ringrazio perché ho visto che state apprezzando tantissimo il ritorno della vanilla Quindi ragazzi oggi siamo qui con un nuovissimo tutorial Quindi mi raccomando hashtag tutorial Voglio riniziare, voglio cambiare un po' di cose che sono rimaste invariate da un po' di tempo Voglio rinnovarmi un po' Infatti sto facendo la nuova intro, non so se l'avete già vista ma questa è provvisoria O comunque vedremo nel tempo Vi invito a scrivere hashtag tutorial nei commenti Perché oggi appunto abbiamo un nuovo tutorial, una nuova costruzione Che da tantissimo tempo che non facciamo una di questo tipo Come al solito saluto le 5 persone che mi hanno seguito su Instagram in sti giorni Un salutone a Dale, Michele, Cristian, Roberto e Kenzia Se anche tu, tu che stai guardando questo video Vuoi provare ad essere salutato nel prossimo episodio Vai e seguimi sul mio profilo e scrivi hashtag saluto nella mia ultima foto Magari potresti essere tu il prossimo ad essere salutato Ci metterai 30 secondi ed è davvero semplicissimo Detto ciò ragazzi cosa costruiremo oggi? Oggi faremo un bel meccanismo che avrà tantissime funzionalità ed andremo a vederli insieme La funzionalità base sarà quella appunto di lanciare razzi all'infinito Una funzionalità molto molto bella ma anche molto molto semplice da costruire Ogni tanto vi faccio questi mega tutorial difficili che ogni tanto qualcuno di voi giustamente non riesce a fare Oggi vi porto una costruzione molto molto base Molto molto elementare ma che si può evolvere in tantissimi altri modi diversi Quindi man mano che appunto andremo avanti col tutorial potrete vedere se upgradearla man mano Detto ciò ti invito a lasciare un bel pollicione in su se ancora non l'hai fatto Per supportare questa serie delle costruzioni Un bel commentino con hashtag tutorial O di quello che vorresti vedere nel prossimo episodio E che dire cominciamo con la costruzione Perfetto ragazzi come prima cosa schiaviamo 1,2,3,4,5,6 blocchi uno dietro l'altro E poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte 1,2,3,4,5,6, quanti ne ho rotti? 1,2,3, in totale 6 blocchi in lunghezza e 2 in profondità Quindi ci troveremo un qualcosa del genere A questo punto prendiamo una bella pietra o comunque qualsiasi altro blocco che avete a disposizione e lo piazziamo Andiamo a prendere il nostro lanciatore di missili cioè il nostro dispenser E lo piazziamo a testa in su Logicamente questi tutorial o qualsiasi tutorial che vedete nel mio canale Può essere fatto su qualsiasi dispositivo di minecraft Con qualsiasi appunto modalità creativa, survival, addentro, qualsiasi cosa voi vogliate Basta che appunto create questi materiali E devo dire che questi sono davvero facilissimi Vi serve pietra, fili e pochissime altre cose del genere A questo punto ragazzi fabbricate un po' di ripetitori di pietra Ve ne serviranno circa 6 Quindi fabbricatene 6 e ne mettete 1 rivolto verso il dispenser 2 rivolto appunto tutti nella stessa direzione Quindi 1, 2, 3, 1 dietro l'altro Vi girate su voi stessi guardando il lato opposto e ne mettete altri 3 1, 2 e 3 Eccoli qui Come concludiamo il meccanismo? Semplice Mettiamo della pietra rossa che andrà a collegare tutte le estremità Concludiamo il meccanismo piazzando una bella torcia di pietra rossa sotto appunto il nostro blocco Come vedete si creerà questa sorta di meccanismo che noi però dovremo andare a rallentare Come rallentiamo i meccanismi secondo voi? L'unico metodo per il momento appunto è cliccare 3 volte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 volte su ogni appunto dispositivo Se per sbaglio sbagliate e ritorna da capo semplicemente o lo rompete o lo rimettete O appunto cliccate di nuovo 3 volte A questo punto ragazzi fabbricate un po' di razzi, un po' di fuochi d'artificio Che sono davvero semplici da costruire Naturalmente so che molti di voi hanno già sconfitto e risconfitto i boss e tutte le cose Logicamente Minecraft essendo uscito da un bel po' di tempo mi sembra anche giusto E quindi avrete tantissimi materiali in più Fabbricate un po' di fuochi d'artificio Tappate un po' il tutto e li posizionate all'interno del dispenser Non preoccupatevi quanto ne avete va bene qualsiasi numero appunto che riusciate a accumulare Una volta fatto ciò ragazzi il dispositivo potrebbe essere semplicemente questo Come vi dicevo un tutorial semplicissimo che sparerà i razzi in aria Ma noi vogliamo le cose un po' più complicate Quindi se volete complicarvi la vita continuiamo così Un'altra cosa molto semplice che potete fare è posizionare appunto una moquette sopra E far finta di niente lasciarla lì e praticamente verranno lanciati questi fuochi d'artificio Cosa potranno servire? Molto semplicemente ragazzi magari avete costruito un monumento L'ender dragon Un qualcosa di importante che vi volete commemorare Volete ricordare e dargli credito Create questo meccanismo e sparerà i fuochi d'artificio appunto vicino a loro Un'altra cosa che si può fare molto molto bella ragazzuoli È una sorta di cassa trappola O una cassa bonus Una cassa fortissima Una cassa contenente degli oggetti rarissimi Che volete appunto tenere belli belli carichi Cosa dovremmo fare? Quindi ci procuriamo una bella ragnatela Che possiamo appunto raccogliere nelle nostre miniere Posizioniamo la ragnatela qua sopra e guardate un po' cosa succede Cambierà il meccanismo Adesso il razzo si tratterrà E appunto il razzo scoppierà direttamente all'interno della ragnatela Cosa succede in questo frangente di tempo? Se qualcuno si avvicina in sopravvivenza Si prende tantissimo danno Quindi potrebbe essere una cassa trappola Come vedete sto prendendo tanto danno E rischio anche di morire Quindi può essere usato o come meccanismo di difesa In questo modo Logicamente prendendo dei dipinti e mettendogli all'intorno delle cornici oggetto Degli item frame E rendendolo un po' più bello Si possono creare delle cose davvero davvero molto belle ed interessanti Come ragazzi una specie di cassa bonus Guardate che roba figa ragazzuoli Tutto il tempo continuerà appunto a scoppiare fuochi d'artificio Facendo, lasciando queste particelle intorno alla cesta Magari all'interno gli mettete un'armatura speciale Un qualcosa di fantastico O semplicemente magari negli younger games O dei minigames che avete creato Può essere una cassa bonus speciale Che appunto si crea dopo un tot di tempo E il giocatore che la prende Trova tantissimi oggetti forti Quindi è una cosa molto bella Ma allo stesso tempo ragazzi fate molta attenzione Perché se vi avvicinerete alla cassa E non riuscirete a prendere tutto in tempo Scatterà il meccanismo di difesa Che vi farà morire Perché scoppieranno i fuochi d'artificio E appunto morirete Detteci ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per la visione Vi invito a lasciare un bel pollice in su Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E passate su tutti i miei profili Che trovate in descrizione Passate anche sul profilo Telegram Che è una specie di gruppo Whatsapp gigantesco Dove possiamo parlare insieme E vi dirò appunto degli spoiler segretissimi Che non potete perdervi assolutamente Logicamente vi metto anche il link Vi dirò quando potrete giocare con me Come diventare miei amici sulla Playstation Tantissime altre cose Inoltre ti invito ad andare a vedere Molti altri tutorial che ho portato nel corso Della mia storia del canale Come la macchina da Formula 1 O le costruzioni speciali Il bancomat La vasca da bagno Il water La stampante La tv Il dondolo La lanterna Insomma ci sono tantissime cose Che potresti esserti perso La televisione Detteci ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Vi invito a lasciare un bel pollice in su per il supporto Iscrivervi al canale E attivate quella campanellina Per non perdervi nessuna notifica E quindi ragazzi Domani ci sarà la live Vi ringrazio ancora tantissimo E che dire Noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao